Musica Salerno, gestione migranti, smantellato gruppo criminale, 16 indagati, arresti in diverse province della Campania, coinvolte anche dipendenti dei centri per l'impiego, intascavano denaro per falsi documenti per ottenere il permesso di soggiorno. Il blitz è partito dalla piana del sele. Napoli, troppe armi nelle mani di minorenni, domani l'autopsia sul 15enne, Emanuele Tufano ucciso in una sparatoria nei pressi di Corsumberto, intensificati i controlli delle forze dell'ordine. Intanto i cittadini ai microfoni di 8 Channel chiedono più sicurezza. L'Egambiente, città green, Napoli e maglia nera, ma male tutte le città della Campania per l'ecosistema urbano del sole 24 ore. Napoli tra le peggiori d'Italia, si salvano solo Irpinia e Sagno. Monito di Lega Ambiente, accelerare gli investimenti su trasporti, energia e verde. Benevento, caos, trasporti, studenti restano in strada, chiusa, piazza risorgimento, terminal bus, dirottato al rione Libertà ed è subito. Caos, penalizzati studenti e pendolari, il PD attacca, era tutto previsto, ma la giunta a Mastella è pronta a correre ai ripari. La tragedia di Francesca, allora della solidarietà fontanarosa in Irpinia ancora sconvolta per la drammatica fine della bambina di 10 anni schiacciata dal cancello di cassa. Ieri sera, veglia di preghiera nella chiesa madre, alla presenza dei genitori, la solidarietà del sindaco e della comunità. Ci siamo, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel. In apertura andiamo subito a Salerno. Producevano documenti falsi per il permesso di soggiorno con la complicità dei centri per l'impiego. Ci sono 16 indagati e 285 pratiche illegali. È stato smantellato dai carabinieri coordinati dalla DDA di Salerno un gruppo criminale attivo anche in Irpinia. Vediamo. Producevano documenti falsi per permessi di soggiorno grazie a datori di lavoro e centri di assistenza per l'impiego compiacenti, realizzando le attestazioni per favorire tramite il decreto flussi 2020 l'ingresso e la permanenza illegale nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari. Lo contesta la DDA di Salerno a 16 persone. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Eboli, coadiuvati dai militari di Salerno, Padova, Montella e Torre del Greco, hanno eseguito 16 misure cautelari in carcere, due indagati, 11 agli arresti domiciliari, tra gli obblighi di dimora sarebbero state rilevate 240 pratiche relative al flusso stagionale 2020, tutte finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno ottenuto in nove casi, 3.000 euro la somma pretesa per attivare l'iter, 1.003 richiesti al datore di lavoro, 1.005 pro capite relativa ai flussi stagionali nella piana del Sele, riccare e agricola, necessario investire ancora sulla sicurezza. Insieme con la prefettura, con la questura, con le autorità, sono state predisposte tutte quelle che sono le cautele, quindi un protocollo d'intesa è stato fatto. Guardiamo questo fenomeno, cerchiamo di starne molto attenti, segnaliamo laddove possiamo, però è ovvio che alla base di tutto c'è sempre una necessità da soddisfare, che è quella della manotopera che in questo momento è particolarmente sentita. Il 23 marzo 2020 inoltre due degli indagati per percepire il risarcimento avrebbero incendiato un'abitazione a postiglione assicurata per 1.400.000 euro. Andiamo a Napoli, adesso sarà conferito domani l'incarico per l'autopsia su Emanuele Tufano, il 15enne che è stato ucciso al rione Mercato, intanto i cittadini chiedono più sicurezza vista l'escalation criminale. Sentiamo. Siamo in via Carminiello al Mercato, a Napoli, esattamente nel posto dove è stato ucciso in una sparatoria il 15enne Emanuele Tufano. Si profila l'ipotesi di uno scontro tra bande rivali per uno sconfinamento. Intanto domani sarà conferito l'incarico per l'esame autoptico sul corpo del 15enne e la popolazione a Napoli chiede più sicurezza. Aumentare la sorveglianza. Le telecamere? Telecamere, si capisce. E si sente sicura? Per niente. Cosa servirebbe? Di tutto di più, apologia, telecamere, di tutto di più e da impiantare, da impiantare da capo. Ma pensare sì, ci vorrebbe un po' più di sicurezza. Qua è diventato impossibile fare qualsiasi cosa, siamo due studenti universitari e stiamo sempre con migli occhi aperti, perché non si può fare nulla. Cosa servirebbe? Più sicurezza, ci vorrebbero più controlli delle pene che effettivamente funzionassero. Le leggi in Italia le abbiamo, non le fanno funzionare. L'accertamento autoptico dovrebbe verosimilmente poi prendere il via subito dopo il conferimento previsto per le 14 ed è escluso al momento che vengano nominati i consulenti di parte. Sono due i minorenni indagati al momento, secondo quanto sostengono i legali. I due giovani, entrambi della zona a mercato, sarebbero stati costretti a rispondere al fuoco quando un'apparanza molto più folta, giunta in sella ad almeno otto scutere proveniente dal quartiere Sanità, si è recata nella zona dove Tufano è morto per sparare contro i rivali. La politica, il terzo mandato, il governatore De Luca non demorde, non lascerò che vadano perduti i risultati di questi anni per fare un piacere a qualcuno, ha detto ieri da Avellino alla festa dell'unità. Ma da Napoli il sindaco Manfredi gela il presidente, bisogna vedere se la coalizione vuole De Luca candidato. Sentiamo. Arriva oggi in Commissione e in Consiglio regionale la norma sulla ricandidatura del presidente, la discussione sul terzo mandato entra nel vivo e resta l'incognita sul voto degli otto consiglieri regionali del PD che prima del 5 novembre hanno chiesto alla segretaria Schlein indicazioni su come votare. Il Nazareno non sembra disposto a fare nessun passo indietro, il terzo mandato per De Luca non è contemplato ed è il sindaco Manfredi a chiarire il punto di caduta politico di tutta la vicenda. alla festa dei giovani democratici ha dichiarato che il voto sulla norma per il terzo mandato a Santa Lucia sembra una farsa, ma seppure De Luca fosse candidabile, ha detto Manfredi, siamo sicuri che la coalizione unita vuole De Luca candidato? Il governatore non ci sta ad abdicare, la sua battaglia è appena cominciata e la domanda di fondo resta la stessa, perché cambiare il candidato se questo ha il consenso degli elettori e ha ottenuto buoni risultati. Ma mica si governa una regione come la Campania, così chi non ha perlomeno la capacità di padroneggiare l'apparato amministrativo della Campania, è la Campania, non è la Svezia, è chiaro, chi non capisce questo deve tacere. Allora c'è un problema democratico di rispetto dei territori e della volontà dei territori. Io non credo che sia uno scandalo parlare del numero dei mandati. Oggi quando si presenta la Campania si alzano i piedi, è chiaro, siamo un modello di ricorre, di trasparenza e di capacità amministrativa. Vorrei non perdere tutto questo. Ecosistema urbano arriva alla classifica del sole 24 ore, male le città della Campania è quanto emerge dallo studio. Napoli tra le città peggiori d'Italia si salvano, ma solo in parte, Irpinia e Sannio. Andiamo a dare un'occhiata. Le città della Campania non brillano per performance ambientali e quanto emerge dall'indagine del sole 24 ore sugli ecosistemi urbani che vede Reggio Emilia al primo posto in Italia, molto male Napoli che si classifica al centotresimo posto della graduatoria. Negativi soprattutto gli indici relativi a dispersione idrica, vittime della strada, trasporto pubblico e autocircolanti. Poco più su Caserta al numero 98 della classifica. Dieci posizioni in alto c'è Salerno che si piazza all'ottantottesimo posto. Provincia promossa per rifiuti e differenziata e per la qualità dell'aria, male invece gli indicatori su ZTL e motorizzazione. La situazione migliora con le aree interne. Avellino si piazza al sessantasesimo posto. A pesare l'inquinamento da polveri sottili e le piste ciclabili quasi assenti, oltre ai dati sulla dispersione idrica. Bene invece il verde totale e la sicurezza stradale. La provincia migliore in Campania è Benevento, che spicca per rifiuti e zone a traffico limitato. Migliorano i dati del trasporto, male invece il consumo di suolo e la dispersione della rete idrica. I cinque capoglopi di provincia Campania retrocedono nella classifica di ecosistema urbano. La sfida militare ai cambiamenti climatici si vince nelle aree urbane, dove vive la maggior parte della popolazione in cui si sentono di più i cambiamenti climatici. E' per questo che bisogna agire subito, immediatamente, per realizzare gli impiatti dell'economia circolare, per riqualificare le periferie, per ripensare il verde urbano, per una mobilità che sia davvero sostenibile a sostegno di cittadine e cittadini. La lotta al lavoro non si processa è lo slogan gridato questa mattina a Napoli durante la manifestazione organizzata in concomitanza dell'avvio del processo a carico di 43 disoccupati che avevano manifestato nel periodo tra marzo 2022 e l'anno successivo. Vediamo. Solidarietà ai 43 appartenenti ai movimenti dei disoccupati di Napoli da oggi a processo per ipotesi di reato connesse ad alcune manifestazioni effettuate a Napoli tra il dicembre del 2022 e il marzo dell'anno successivo. Questa mattina corteo di manifestanti composto da associazioni, studenti e società civile. Tutti in corteo fino all'aula bunker dove era in corso la prima udienza per rimarcare il diritto a manifestare. Sono sotto processo per la lotta per il lavoro. Noi oggi abbiamo dato una risposta con questo corteo, con tanta solidarietà di tanti lavoratori e lavoratrici, di tanti studenti, di tanti attivisti contro i cambiamenti climatici perché conoscono il movimento dei disoccupati, conoscono queste donne e questi uomini che in dieci anni si sono organizzati dal rione Traiano a Scampia. Sono disoccupati, formati nei settori dei servizi di pubblica utilità, nelle aree comuni e potrebbero essere utilizzati ieri, non domani mattina, nei lavori realmente necessari. Sicobas in piazza al fianco dei manifestanti dei lavoratori. Che da anni subiscono la repressione per il solo esercitare il diritto di sciopero. L'articolo 14 del DDL 1060 criminalizza il blocco stradale ma dietro il blocco stradale ci sono le centinaia e le migliaia di picchetti che i lavoratori per stessa dichiarazione del ministro Piantedosi prevalentemente attraverso l'organizzazione sindacale Sicobas che esercitano come diritto per rivendicare il lavoro. Caos a Benevento per il via e i lavori che interesseranno piazza Risorgimento e piazzale Venanzio. Da questa mattina si sta insediando il cantiere per il restyling che dovrebbe durare circa due anni. Disagi per studenti e pendolari. Studenti e pendolari tra Caos e Disagio e Benevento al via e il cantiere per la riqualificazione di piazza Risorgimento ed il vicino piazzale Vari con lo spostamento del terminal degli autobus extraurbani in via Rivellini al rione Libertà. Purtroppo molte compagnie di trasporto non hanno permesso la fermata in via Mustilli in zona alta nonostante l'ordinanza apposita. Pochi anche i bus del trasporto urbano e dunque numerosi gli studenti che hanno saltato le lezioni. I pullman di città non ci hanno fatto salire e quindi non siamo riusciti ad arrivare a scuola anche perché anche a livello di tempistiche è molto disagiante perché con i pullman qui si arriva molto tardi quindi non abbiamo l'opportunità di entrare alle 8 a scuola. Dovremmo entrare tutti i giorni comunque in seconda ora. L'unica fermata purtroppo è stata questa e non c'è stata possibilità di arrivare a scuola. Da dove vieni? Da Apice. Difficoltà oggi? Sì perché comunque frequento la scuola a piano cappelle e i pullman non ci hanno portato sopra per prendere l'altra navetta e oggi non sono andato. Secondo me da domani dovremmo venire con i nostri genitori. Dobbiamo andare al campo basso quindi aspettiamo l'air. Anche l'EDAC ha fermato il cibo alla stazione. Ho dovuto prendere il pullman di città per venire qua e adesso siamo in mezzo alla strada. Io vengo da Ariano Irpino, facciamo l'università a campo basso quindi di conseguenza prendo il pullman a Ariano, venendo, venendo a campo basso. Quindi diciamo sempre air, mi sono ritrovato qui. Problemi segnalati anche dai sindaci di diversi comuni sanniti e l'amministrazione Correi Ripari annuncia una nuova ordinanza per garantire efficienza e diritto allo studio. A Fontana Rosa adesso è stata dissequestrata la salma della piccola Francesca morta a soli dieci anni schianciata dal cancello della sua abitazione. Domani ci sarà lutto cittadino e i funerali. Vediamo. Una fiaccola accesa vicino all'altare accanto alla foto della prima comunione di Francesca e sullo sfondo la scalinata verso il cielo raggiunto troppo presto. È l'immagine che ha accompagnato la veglia di preghiera in sua memoria nella chiesa di San Nicola a Fontana Rosa. La comunità, rispettosa del dolore, su indicazione del parroco ha inteso rimandare ad un altro momento il rito delle condoglianze ai familiari. Presente il sindaco Giuseppe Pescatore, ancora frastornato dopo l'accaduto. Francesca ci ha lasciato, però ci ha lasciato ricordandola come una bimba dalla straordinaria educazione, dalla straordinaria bontà. Era un'amichetta del cuore di tante bambine, tra cui anche mia figlia. Era Francesca, era buona, era così. Dinamica che sembra ormai essere chiara agli inquirenti, Francesca era scesa dall'auto di sua madre prima di varcare l'ingresso di casa. Ha iniziato a chiudere a mano, come aveva sempre fatto, quel cancello scorrivole maledetto piombato terribilmente all'improvviso su di lei, senza scampo. Una morte assurda, ingiusta e inaccettabile a soli dieci anni che nessuno avrebbe mai minimamente immaginato. Dopo l'esame esterno e il nulla osta della procura, la Salma giungerà in paese dove sarà lutto cittadino. Nuova sede a Napoli di RFK Human Rights Italia, inaugurata negli spazi della Fondazione Focus da Kerry Kennedy, figlia di Robert. Vediamo. RFK Human Rights Italia annuncia l'apertura della sua nuova sede a Napoli, la seconda in Italia dopo quella di Firenze. Un passo significativo verso la promozione di una cultura diffusa dei diritti umani che sceglie per la base delle proprie attività un quartiere fragile di Napoli, quartieri spagnoli e una fondazione Focus che sui diritti, l'emancipazione sociale e il cambiamento ha impostato dieci anni fa la propria missione. Alla presenza di Kerry Kennedy, figlia di Robert, presidentessa del Robert Fitzgerald Kennedy Human Rights, accolta dalle istituzioni e da tutti gli enti che partecipano al progetto Focus, è stata inaugurata la sede del Mezzogiorno. La filosofia della nostra fondazione è che coloro che sono più vicini ai problemi sono anche più vicini alle soluzioni ma sfortunatamente in molti casi sono poi più lontani dal potere di produrre il cambiamento. Quindi ecco perché noi siamo qui a Focus, nel cuore dei quartieri spagnoli dove già ci sono tante realtà che lottano per promuovere i diritti fondamentali e porteremo avanti dei programmi di educazione ai diritti umani e speriamo anche di poter lavorare con i migranti per favorirne l'integrazione nella società italiana. Oggi parlare di diritti civili significa parlare della condizione della vita di anziani, di donne, di bambini, di generi, di diritti al lavoro e alla sicurezza. Insomma è ampissimo il lavoro. E' stata presentata questa mattina a Salerno l'ottava edizione del BOT Show, il Salone della Nautica, in programma dal 1 al 5 novembre al porto di Marina d'Arechi. La città di Salerno è pronta ad ospitare l'ottava edizione del BOT Show, il Salone della Nautica, che quest'anno si terrà dal 1 al 5 novembre nel porto turistico di Marina d'Arechi. Un appuntamento cresciuto a dismisura e diventato nel tempo un punto di riferimento per appassionati operatori legati all'indotto nautico. Ci avremo 230 imbarcazioni, circa 104 imbarcazioni a motore, 9 gozzi, più di 80 gommoni, 35 imbarcazioni a vela, quindi c'è tutto il parterre della Nautica. E la cosa interessante è che abbiamo i più grandi brand italiani e internazionali, abbiamo due regine del Salone, abbiamo Ferretti che porterà un'imbarcazione di 30 metri, e Azimut, l'altro grande cantiere italiano, porterà un'imbarcazione di 24 metri. Un appuntamento che ha contribuito alla crescita del settore nautico in provincia di Salerno, garantendo riscontri importanti anche in termini turistici. Noi anche quest'anno abbiamo circa un 10% di crescita sulla nautica che occupa il porto turistico. Siamo arrivati a 941 approdi quest'estate di imbarcazioni in transito. Ripeto, il transito è chi decide di inserire Salerno e Marina da Reiki nella propria croce d'estiva. 941 imbarcazioni, di cui circa 450 megajot, il che significa circa 500 invece di imbarcazioni, tra virgolette, normali. Due anni fa erano state 770, quindi dai transiti. Quindi noi in due anni abbiamo avuto di fatto una crescita del 22%. Fitness, benessere e rieducazione motoria nasce a Napoli. Mvm Therapy, la rete dei professionisti di eccellenza del settore guidata dal chinesiologo Luca D'Alterio. La rete dei professionisti di eccellenza della rieducazione motoria trova casa in Mvm Therapy Center, la nuova struttura specializzata in attività motoria adattata e rieducazione motoria in ambito clinico e sportivo guidata dal chinesiologo Luca D'Alterio. Il centro è stato inaugurato sabato scorso a Napoli in via Fabio Massimo 58, quartiere fuori grotta, nel corso di un incontro aperto alla città. I nostri muscoli sono un vero e proprio organo, hanno una funzione endocrina importantissima e quindi non può essere trascurata, così come il fegato, il pancreas e tutti gli altri organi. Quindi i muscoli vanno presi in considerazione quando parliamo di contesto patologico. Prima di intervenire chirurgicamente, salvo casi dove è necessario, bisogna capire come il paziente si comporta a livello muscolare, articolare, tendinio. Il corpo non mente, mentre la mente mente. E quindi noi non possiamo mai smettere di guardare al corpo per avere una comprensione del nostro stato di salute. Il forte della medicina funzionale è l'approccio alla ricerca delle cause, che ci sono dietro a una patologia. Quindi supporta la medicina convenzionale, ma non lavora solo sull'acuto, ma soprattutto sulle patologie croniche. Il mio lavoro, essendo anche stata una farmacista prima di diventare una nutrizionista, è quello di cercare di arrivare prima del farmaco. Quindi cercare di utilizzare l'alimentazione come prevenzione e anche come cura laddove poi ci fosse già una patologia cronica conclamata. Ad oggi esistono dei protocolli alimentari che ci permettono di modulare sia l'assetto ormonale, sia lo stato infiammatorio, andando anche a modulare tutto quello che è l'impulso sul sistema nervoso periferico fino al sistema nervoso centrale. È tutto per questa edizione in regia Aldo Fenizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.